Parliamo di Scrum. Può sembrare il suono di un fumetto, in realtà è un termine inglese che indica l'azione di mischia ordinata nel rugby ed è anche una delle metodologie agile che stiamo utilizzando qui in azienda per sviluppare alcune delle nostre nuove applicazioni. Ma cosa hanno in comune rugby e agile? Io, la prima volta che ho visto una mischia in tv, ho percepito una cozzaglia di energumeni che si ammassava disordinatamente intorno a una palla. In realtà si tratta di un'azione sportiva che segue un regolamento preciso, che richiede notevoli competenze tecniche e affettamento di squadra. Ecco, un team agile si muove seguendo gli stessi principi. Il mio team ha l'obiettivo di realizzare una nuova applicazione che supporti la reclaim nello sviluppo e nella gestione dei sinistri. È da un po' di tempo che gli gestionali in uso non vengono modificati e sono cambiate le esigenze del business e comunque penso che tutti noi abbiamo una visione più innovativa di come un'applicazione può essere a supporto del lavoro quotidiano o del liquidatore. Se avessimo approcciato lo sviluppo con quell'approccio a cui siamo tutti più abituati, il waterfall, avremmo diviso le attività in sequenza e avremmo lavorato a compartimenti stagni. Il business avrebbe raccolto le sue esigenze e una volta ricevute l'IT avrebbe sviluppato e consegnato un'applicazione in un'unica soluzione. Questo approccio fa sì che soprattutto quando si tratta di realizzare applicazioni complesse sia difficile per il business avere chiaro i suoi requisiti fin dall'inizio e allo stesso modo non è facile per l'IT essere a supporto di cambiamenti in corso d'opera. Con lo sviluppo agile siamo partiti insieme business ed IT fin dal calcio d'inizio. Abbiamo organizzato una prima fase chiamata inception, principio appunto della durata di tre settimane. Sono settimane interamente dedicate a confrontarci per capire e condividere quali erano le nostre aspettative del prodotto che avremmo realizzato. In questo modo il team costruisce giorno per giorno una visione condivisa di quello che sarà il prodotto finito e delle sue principali caratteristiche. Si riempie una sorta di cassetto dei desideri che in Scrum è chiamato Product Backlog. A quel punto siamo stati pronti per partire. La squadra è formata da Adriano, il Product Owner, è la persona che si prende cura del cassetto, sa cosa contiene e si preoccupa che l'area business sia allineata sul contenuto. Siamo un team poi molto variegato di analisti e sviluppatori, abbiamo un gruppo di colleghi in utrito che lavora con noi dall'India e Gianluca, lo Scrum Master. Per farvi capire uno Scrum Master è contemporaneamente il coach, un giocatore e il fan numero uno del team. Dividiamo il lavoro in sprint di due settimane. All'inizio di uno sprint si apre il cassetto e si decide quale desiderio si vuole realizzare. Si lavora fianco a fianco, si sviluppa in coppe in modo da avere un riscontro continuo e ogni sprint ha l'obiettivo di aggiungere un pezzettino di valore a quanto sviluppato nello sprint precedente. Al termine delle due settimane presentiamo quanto prodotto. È un momento importante perché dà la possibilità al business di allinearsi sul prodotto che sta crescendo e all'IT di raccogliere feedback immediati e di essere di supporto per eventuali cambiamenti. Con Agile quindi riusciamo a sviluppare del software migliore grazie a questi cicli di sviluppo incrementali e raccolta dei relativi feedback. Qualche anno fa ho partecipato a una delle stanze di semplificazione. È stata una fantastica esperienza e sarà anche vero che ogni scarrafone balla mamma sua, ma il team che abbiamo costruito era affiatatissimo. Lavoravamo insieme dalla mattina alla sera, ci confrontavamo senza paura dei nostri pensieri, le nostre idee, gli obiettivi rispetto al raggiungimento di un fine comune. Erano i primi passi che Generale muoveva verso questo nuovo tipo di lavorare che ci ha portato oggi ad avere 16 squadre attive che lavorano in modalità full agile. Sono team indipendenti e eterogenei che convolgono quasi 200 nostri colleghi tra business ed IT. Per concludere penso che utilizzare un approccio agile sia un'opportunità che abbiamo per mettere noi e le nostre relazioni al centro del lavoro quotidiano. Abbiamo la possibilità di coordinarci per muoverci come una mischia coordinata e arrivare a meta e poi goderci anche un meritato terzo tempo. Grazie.